Dopo la produzione, Samsung ha annunciato di aver sospeso anche la vendita del Galaxy Note 7. Ha chiesto ai suoi partner commerciali di non accettare più sostituzioni e ai clienti di spegnerlo e non usarlo. Una debacle totale per l'azienda sudcoreana alle prese con uno dei suoi più grandi fallimenti di tutti i tempi che sta avendo conseguenze nefaste sull'andamento in borsa. Lo stop totale darà modo di fare un'inchiesta approfondita, ha annunciato la stessa Samsung, sui ripetuti casi in cui i telefoni hanno preso fuoco. Sono solo il 25% gli italiani che negli ultimi sei mesi hanno perfezionato un acquisto via smartphone o tablet, percentuale sensibilmente inferiore al dato europeo 32% e mondiale 38%. I dati emergono dalla Nielsen Mobile Ecosystem Survey realizzata in 63 paesi. Dall'indagine emerge che ci sono ampi margini di sviluppo del mercato, soprattutto per il mobile only banking, banche che offrono servizi unicamente attraverso il mobile. Il Natuokunden Museum, il Museo di Scienze Naturali di Berlino, ha inaugurato il suo dipartimento realtà virtuale grazie a una partnership con Google Arts and Culture. Chi entra può visitare il museo che ospita il T-Rex più grande e meglio conservato ritrovato finora in modo interattivo e passeggiare con occhiali speciali che permettono agli scheletri di dinosauri e altri fossili di prendere vita.